Impossibile chiudere i bilanci comunali, a rischio i servizi essenziali come il trasporto scolastico, la mensa e l'ordinaria manutenzione. E' questa la drammatica situazione dei piccoli comuni, particolarmente colpiti dai dagli dei trasferimenti regionali. In attesa della grande manifestazione della prossima settimana che unirà piccoli e grandi centri a Palermo per chiedere al Governo regionale di integrare il fondo dei trasferimenti e garantire così la sopravvivenza dei comuni, il Consiglio Comunale di Alcaralifusi fa i conti con il bilancio sfittico. Il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità un documento che dava un indirizzo al Governo proprio quello di non tagliarci alcun tipo di trasferimenti, di non tagliarci sul fondo soprattutto perché noi abbiamo la necessità che qualsiasi tipo di taglio per noi corrisponde a un taglio di servizi per quanto riguarda ai cittadini. Nel caso specifico già stamattina avevamo problemi anche per quanto riguarda il trasporto spolastico. Purtroppo ci siamo solamente ormai basati sull'ordinarietà, però almeno questa la vogliamo assicurata. Mantenere almeno i servizi essenziali alla popolazione, questo chiedono all'unisone i sindaci del territorio. I contini tagli impediranno anche il pagamento degli stipendi dei dipendenti comunali con catastrofiche conseguenze preghienti. Tutti i piccoli comuni abbiamo avuto circa un taglio intorno al 53-54% sia per quanto riguarda quello che hanno deciso il fondo delle autonomie ma anche l'abolizione della legge Formica che già solo un comune come Alcara prendeva 70 mila euro. Quelli già in partenza li hanno tolti. Poi aggiungiamo i tagli che fanno. Praticamente alla fine sul bilancio dei nostri comuni avremo un segno rosso. Mi auguro mai, però se continuiamo così e se le percentuali di taglio sono quelle lì che in questi giorni abbiamo ascoltato a Palermo fino a ieri in una riunione con Lanci mi creda che prima o dopo i piccoli comuni saranno destinati veramente a chiudere.